Dovete controllare il gas, signori miei, perché se la temperatura non è costante, l'alcol puzzerà da far schifo e nessuno sarà disposto a berlo. Questa è la serpentina di raffreddamento. Serve a creare la condessazione. L'acqua deve essere costantemente fresca. Ah, attenzione all'imbottigliamento. Neanche una goccia di alcol deve essere perduta. Hai la faccia di uno che non ha capito nulla di ciò che ho detto. Lei ha capito, carità? È l'unica persona di cui mi possa fidare. Non preoccuparti, cucinare è più difficile. Che cos'è quello? Mariana, ti ho detto di non venire qui. Ehi, 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 un momento. Sergio, la bambina deve saperlo. Potrebbe dire qualcosa a scuola. Ha ragione. Marianita, amore mio, è importantissimo che tu non dica una parola di quello che facciamo in cucina. Neanche una parola. Come della radio clandestina? Ah, ah. È più buono del rum d'esportazione. Caspita, è molto forte. Ascoltate questa, signori. È il ritmo pilon, è il ritmo pilon. Bella, eh? Che ricco è. Come canta! Balla! Ciao! Sì, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.